Allora ragazzi vi faccio vedere questa Kia Picanto, guardate quanto è interessante il colore, questo puffo, molto bello il frontale, guardate che bella è, davvero piacevole, mi piace tantissimo sempre come è implementato il logo Kia, eccolo qua, sul frontale e anche sulla parte posteriore, mi ripeto interessantissimo il colore, guardate che belli che sono i cerchi in lega, eccoli qua. In questo caso 175 65 R14, lo specchietto, la linea, faccio vedere la linea dell'auto, la linea di cintura, e poi andiamo a vedere girando dintorno anche il retro treno dell'auto, la parte posteriore della macchina, molto interessante, davvero bella. Mi piace tantissimo questo colore, eccola qua, vista da dietro, e adesso andiamo a vederla dall'interno. Anzi, prima vi faccio vedere la bauliera, visto che siamo qua, vi faccio vedere la bauliera, eccola qua. Questa è la bauliera, con ovviamente il classico doppio fondo, molto capiente anche tra l'altro. Andiamo a rifiudere, e andiamo a salire all'interno dell'auto. Allora, eccoci qua, all'interno di questa Kia. La pannellatura, troviamo sempre la parte rigida, superiore, in questo caso un po' di tutto lo sportello. La pastiera, per quanto riguarda gli specchietti, le chiusure centralizzate, e i quattro vetri elettrici. Andiamo a vedere anche il cruscotto, andiamo subito, vi faccio vedere subito inserendo le chiavi. Ecco qua, come si presenta. Ci saluta il logo Kia, come si presenta anche il cruscotto. Eccolo qua. Molto carino. Mi piace veramente tanto. Questa è, ok, confermiamo. Guardate se io metto la retromarcia, abbiamo la camera posteriore, questa è la radio, oppure se andiamo su setup, andiamo su menu, allora, 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 setup, vi sono le varie interazioni con l'auto e quindi di conseguenza con lo schermo suono, connessione dispositivo, display, abbiamo le connessioni generali. Vedete? È touch, quindi capacitativo, davvero interessante. Abbiamo qua il pratico porta oggetti, non è frenato. Queste sono le bocchette dell'ariazione. Cioè la macchina, anche se è appunto un'utilitaria, è davvero ben curata, a me piace davvero tanto. Abbiamo i comandi della climatizzazione, aria condizionata, qua vi è una presa USB, che non riuscirò mai a farvi vedere, sì, forse adesso con luce accese sì, una presa USB e poi un'altra 12 volts. Qui troviamo i due porta bicchieri porta bevande, questo è il cambio, un manuale a 5 marce, nel tunnel troviamo ovviamente un freno a mano manuale con un inserto porta oggetti. E questa è la trama della seduta, eccola qua, nera, ve la faccio vedere bene, eccola qua, questa è la trama, nero con una linea passante centrale un pochino più chiaro su tutta la vettura direi. E adesso andiamo a vedere come stiamo seduti nella parte posteriore, ricordo che io sono appunto alto 1,86 m, quindi mi sono regolato la seduta, ah questo è lo sterzo, classico sterzo a tre razze Kia, con comandi al volante, inserti in alluminio, finto alluminio, cusciturina grigio su tutta la linea passante del volante, a tre razze. Adesso andiamo a vedere come stiamo seduti nel divanetto posteriore, io sono alto 1,90 m quindi mi sono regolato proprio per la mia altezza, quindi mettiamo ben in chiaro come ci si sta se davanti vi è seduto una persona alta. Sportello aperto, ops, sono entrato e mi sono seduto appunto nel divanetto posteriore, abbiamo la stessa identica pannellatura per quanto riguarda lo sportello sia dietro che davanti. Qui vi è la seduta, mi ripeto, sono alto 1,90 m quindi ho regolato la seduta per la mia statura e devo dire che ci sto, ci sto preciso con i ginocchi ma non ci sto male, consideriamo, ripeto, che qui davanti c'è seduta una persona di 1,90 m, quindi per quattro persone direi che si può stare anche seduti ben comodi dietro. Non abbiamo ovviamente un poggiabbraccio posteriore, questa è la classica ovviamente seduta trama del divanetto. Poi se voglio andare al centro ovviamente sono un pochino più sullo stretto il passaggio però il tunnel è sempre molto basso, è sempre molto basso e devo dire che riesco a starci comunque seduto abbastanza comodo. Ovviamente teniamo ben presente che siamo su un'auto utilitaria però guardate quanto è carino il cockpit, quello che si vede dalla parte posteriore, guardate quanto è curato e devo dire che è davvero carino, interessante, piacevole. Comunque non è male. Andiamo a vedere anche il vano motore, vi voglio far vedere questo 1000 tre cilindri MPI, siamo di fronte appunto a una macchina a benzina con 75 cavalli e questo è il vano motore. Allora a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziare la concessionaria Even Auto per aver messo a disposizione l'auto in maniera del tutto gratuita. Mi raccomando iscrivetevi al canale, cliccate like, condividete il video se vi è piaciuto, fate bravi, comportatevi bene e al prossimo video un salutone da LG Passione Motori è tutto, bye bye bye. Grazie a tutti.